Mentre i copertoni, contatto, gamba e parti. Vai, vai, vai. Sì, brava, vai. Seduta, 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 seduta. Non ti può stare, seduta, 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 dritta, seduta, seduta. Seduta, vai, 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 vai. Alza la mano a destra, chiudi le mani. Sì, seduta, seduta, seduta. Alza la mano a destra, mezzo ai copertoni, rallenta, ritorna al trotto. Batti la sela, vai, vai, vai. Vai a destra, batti la sela, non faccia di che dopo. Non l'hai guidata con le mani né con le gambe. Il cavallo ha girato come la macchina. Se togli le mani dal volante, c'è da fare la convergenza. Ah, la macchina se ne va. Alla furia, bisogna rifare la convergenza. Capite? Alza la mano a destra. Passa in mezzo ai copertoni e vai bello a destra. Così, chiudi le mani, chiudi le mani, vai a destra. Attrotto sempre, piano, piano, piano. Non muovo, non mi puoi girare. Nidela sempre con le mani e con le gambe. Sì, la mano sinistra avanti, la mano sinistra avanti, la mano sinistra avanti. Dritta, dritta, dritta. Si corre così. Eh? Perché corre così? Eh, perché ti mangiare lì. Vito? Stai andando con la seconda al massimo. Invece riduci e per ridurre le gambe, non stringere troppo con le gambe e lei fa piano. Piano piano. Sì, chiudi le mani, chiudi. Sì, sì, sì. Passa in mezzo ai copertoni e parti di caloppo. E vieni a destra, sai? Fai un cerchio qua, seduta, 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 a parte di caloppo, seduta. Piano piano, 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 brava. Seduta. Allarga, allarga, allarga e ti stringi là fuori con la gamba, con la gamba, con la gamba, con la gamba. Vuole, vuole, fermati, fermati, vuole. Ferma, brava, va bene. Riposo. Allora, hai notato? La gamba, la devi guidare di più, vuole la gamba, se non metta a mano lì. Inoltre, non è questa, poi sta a mano lì. Il motivo che tu le stringi è senza tutta calma. Fermati, stai ferma lì. Mettila sulle quattro gambe, aggiustala, eh? Aggiustala, aggiustala. Fermati, gli precisa. Parla con la cavalla, precisa. Non è precisa? No. Vedi, sì. Ok, va bene così per adesso. Morti con le mani, brillo, guardi, fermati. Fermati, fermati, fermati. Falla rinforzare, fermati. Fermati, la fermi, la lega. Eh, sì, sì. Oh, sì. Non è vero, non è vero, non è vero. Non avere paura a chiudere le mani. Devi distendere, non è vero. Devi distendere solo le braccia, capito? Ma le mani così? Fermati, ragazzi. E' un po' di più costantino in un po' di più Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito. La scuola, la scuola, la scuola. Grazie a tutti.